Eccoci qua. Allora, oggi volevo un attimino parlarvi di un principio sulla nostra rete plissettata. Noi abbiamo tante certificazioni sul nostro prodotto sviluppate nel tempo e negli anni. Una certificazione sicuramente molto attuale che è contestualizzata per il periodo che stiamo vivendo, per cui primavera, estate, e la certificazione per l'antipolline. Per cui ci dirigiamo un attimino su tutte le persone che possono subire un pochino le allergie, allergie di stagioni, soprattutto in questi ultimi anni sembra che siano prolificate le allergie nelle persone. Per l'appunto, allora, un po' di anni fa abbiamo iniziato un percorso tramite un istituto medico e un medico nella fattispecie di test sul prodotto e abbiamo raggiunto la certificazione per quanto riguarda l'antipolline. Questo prodotto qui ci dà questa grossissima peculiarità. Innanzitutto, chiaramente, la salvaguardia dell'ambiente interno, per cui possiamo iniziare a vivere un ambiente, tra virgolette, stagno da agenti esterni che possono dare fastidio alle persone, per cui alla famiglia, soprattutto ai bambini. Oltre che ci dà veramente la percezione di quanto polline può entrare in casa e noi non ce ne accorgiamo, perché il principio proprio della rete che abbiamo progettato prevede proprio la tramatura fitta in modo da respingere completamente il polline, non facendolo entrare all'interno dell'appartamento. In questo modo qui abbiamo un filtro, che è una barriera, che crea la distanza tra la parte esterna, per cui la nostra casa, il nostro balcone, il nostro giardino, e la parte interna di casa, dividendo e scindendo completamente i due ambienti. Io ho visto delle prove personalmente di questa rete, come dove l'abbiamo testata, l'abbiamo testata in Maremma Toscana, l'abbiamo lasciata per settimane nel pieno della Maremma ed sono stati eccezionali i risultati. Il filtro raggiungeva più del 70-80% di schermatura, che sono numeri pazzeschi. Cioè creare un ambiente in un appartamento, chiaramente nel momento in cui si va ad intervenire in una sostituzione o un'installazione, il consiglio chiaramente è farle tutte quante, perché l'ambiente, tutte quante le zanzerele, perché l'ambiente va protetto in tutta la sua totalità. In questo modo qui tantissime famiglie hanno raggiunto la possibilità di poter vivere un ambiente più sano all'interno della propria casa, che è l'ambiente tra virgolette più protetto.